a tutti ragazzi e benvenuti a questo video sono spotless la intro purtroppo l'ho registrata dopo aver registrato tutto il video dopo 10 minuti circa non posso farvi salutare dal mio amico light però sti cazzi di tutto c'è il pet freck il pet tu chi l'ha il pet non me lo fa killare il pet freck che c'è una mano vai vai traditi gps vai bom calato freddic tu no me la fremela mi cambio l'armatura anche forte anche dice la via questa è la che scappa la fly arrivando perché laga così no l'aggata dietro il cocco a copri e io l'ago andiamo ma tu che ha ancora la speed c'è questo fru copri copri fru fru vieni copri vieni buttati giù a tutto si è buttato fru vai che mi sta calando fru mi sta calando boom calato ma tu mi re c'ho le protezioni epiche con l'armatura custom fru vabbè fru e tieni fru andiamo sopra aspetta che mi cambio armo fru mi serve una pozione di strength no ha perdato male vai 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 fru per la sopra per la sopra è morto è morto è morto è morto non lo buttare tanto fru no fru non lo buttare tanto aspetta lo spingo verso il fuori vai no fru mi la mela cambia devoonne fru copri stop morendo vai 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 si è calato scappa qua vai 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 giù nel lato me lo butti nel lato veloce vai giù 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 provai fresco vai qua si è caduto l'argo l'argo no l'arga sai no è la gava oddio come cala vai è buggato vai no come ha fatto figlio di zoccola c'ha land e pearl no vai vai lo trovo di dentro stai con la scuola l'argo stai con la scuola l'argo è no la perla vai dammi a me dammi a me buttami una buttami una buttami una buttamela me l'ha perlato madonna pic o o oooooooooooooooo A presto! Grazie a tutti. Grazie a tutti.